E ora parliamo dell'emergenza coronavirus in Puglia perché l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, consulente della Task Force regionale che si sta occupando della pandemia nella nostra regione, ha detto che per quanto riguarda l'utilizzo dei testi, i cosiddetti tampone, la strategia utilizzata dalla Puglia è uguale a quella del Veneto. Intanto ieri la curva del contagio è nuovamente risalita e tra i nuovi positivi ci sono anche quattro medici e il servizio. La strategia di utilizzo dei tamponi in Puglia è stata identica a quella di regioni come il Veneto che sono prese ad esempio come standard ottimo e l'attività della rete diagnostica regionale ha permesso di gestire l'epidemia con risultati eccellenti. L'epidemiologo Pierluigi Lopalco, coordinatore scientifico della Task Force regionale per l'emergenza coronavirus, replica così al capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Ignazzo Zullo, che aveva sollevato dubbi sul numero di tamponi effettuati in Puglia. Stessa critica è stata mossa anche dal Movimento 5 Stelle. Ovviamente, precisato Lopalco, il numero assoluto di tamponi eseguiti in Puglia risultano inferiori a quelli del Veneto perché il numero di casi e di catene di contagio delle due regioni non è paragonabile. In Puglia, in tutto, sono stati registrati solo 12 focolai nelle RSA ed RSSA e 6 focolai in tutta la rete ospedaliera. Fra le centinaia di aziende che hanno in questa prima fase continuato la loro attività produttiva, solo in una si è sviluppato un focolaio prontamente individuato e spento. Il riferimento è alla ditta Siciliani di Palo del Colle dove 71 dipendenti sono stati colpiti dal Covid-19. L'epidemiologo evidenzia che i controlli in Puglia hanno portato all'individuazione di oltre 26.000 cittadini che hanno ricevuto un'ordinanza di isolamento fiduciario a casa, in pratica più di 6 ogni 1000 abitanti. In Puglia, quindi, nessuno ha centellinato o vuole centellinare i tamponi, dice Lopalco. Nella fase 2 il tampone non verrà negato a nessun pugliese che ritornerà al lavoro, assicura, ricordando che per i sintomatici si fa il tampone su richiesta del medico di base o del Dipartimento di Prevenzione. Invece per gli asintomatici c'è la sorveglianza attiva rigorosa, per gli altri la quarantena di 14 giorni. E tra i positivi registrati in Puglia ci sono anche 4 medici in servizio nel reparto di Otorino, la ringoiatria dell'ospedale Perrino di Brindisi, reparto che è stato sanificato ed è stato predisposto all'effettuazione di tamponi per i nuove degenti e per i contatti stretti dei medici. E' tornata intanto a salire la percentuale di nuovi contagi in Puglia. Dopo lo 0,8% di lunedì, nel bollettino diffuso ieri dalla Task Force regionale, si legge che il numero delle nuove positività è di 26 unità su 1.816 test fatti, pari all'1,43%. Dei nuovi casi, 4 sono stati registrati nella provincia di Bari, 1 nella VAT, 9 in territorio foggiano, 2 nell'Eccese e 3 nella provincia di Taranto e 7 in quella di Brindisi. I deceduti per Covid-19 sono 5, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce e 1 in provincia di Taranto. Il totale dei guariti è di 855 persone, mentre cresce anche il numero dei positivi che si trova in isolamento domiciliari, l'82,7% del totale. Restano infine gli uomini più colpiti, sono il 51,2% del totale.